Musica Figlio e mamma vennero rapiti proprio alla vigilia di Natale lui si chiama Giorgio Calissoni la mamma si chiamava Anna Bulgari c'è un documentario che li racconta ti ho visto negli occhi vediamo Anna in questa clip grazie Rita a voi sono stati 35 giorni di terrore di terrore io non pensavo di tornare viva certi marchi rimangono certe ferite non si non si rimarginano mai mi è stato tremendo ma c'è gente che non è più tornata normale ma non si può tornare normali dopo che lei ha tolto una persona l'ha levata dal tempo e dallo spazio ci pensi bene io che devo sempre sapere che ora è e sono stata bendata per 35 giorni con il coso negli orecchi uno diventa pazzo pazzo diventa e pazzo non siete diventati Giorgio Calissoni grazie per essere con noi Vania Colasanti che ha realizzato questo bel documentario che troviamo su Rai Play e peraltro la vicenda fu molto molto dolorosa per entrambi non solo per il rapimento ma perché a Giorgio venne tagliato un orecchio una cosa rimasta anche nella sensibilità di ognuno di noi era il 19 novembre 1983 quando lei e sua mamma venivano rapiti dalla casa di Ardea una località del litorale romano e poi trasportati in una in un luogo sconosciuto che però non era così lontano no? Voi vivevate in una vi hanno visto in una tenda eravate bendati come andarono quei giorni? Sì, dunque alla fine fu la polizia ritrovò il posto vicino a Colleferro una località montuosa vicino a Colleferro sempre nel Lazio sempre nel Lazio perché mia mamma riuscì a calcolare esattamente il tragitto da quando fumo rapiti a quando fumo lasciati sul posto che fu di un'ora di macchina e poi attraverso alcuni rumori e altre cose la polizia ricostruì questa zona vicino a una fabbrica che faceva materiali Lei, tu, non so tu avevi 17 anni quindi un adolescente con una mamma abbiamo visto Gagliarda che è scomparsa da poco 22 maggio di quest'anno avanzata, più di 90 anni hanno entrambi deciso di raccontare hanno entrambi deciso di fare questo documentario perché volevate dare una testimonianza storica di quello che è successo cioè quello che per voi è stato un evento drammatico per noi rimane una pagina di storia perché i rapimenti fortunatamente non ci sono più Chi erano i vostri rapitori? Come si comportarono con voi? Allora, dunque i rapitori erano si presentarono come terroristi rossi come brigadisti rossi però in realtà erano metà banditi e metà terroristi erano sedicente movimento armato sardo sostanzialmente loro facevano sequestri però dicevano anche di essere terroristi di farlo per la liberazione della Sardegna dall'Italia sono tutte cose un po' vaneggianti in realtà che chiesero un riscatto in realtà sì ci fu il blocco dei beni ci fu il blocco, sì e dei primi giorni di prigionia tu che cosa ricordi? come soprattutto del rapporto con tua mamma? beh, è un rapporto che ci ha accompagnato però durante tutta la prigionia quello con mia mamma per fortuna perché ci siamo tenuti coraggio a vicenda e questa è stata una cosa molto importante perché poi lei era tua mamma ma tu eri il figlio maschio sì tra i due chi era più forte o più fragile? ma, oddio forse in quel momento lo ero io perché ero molto giovane poi anche avevamo continue minacce di morte quindi ciò che succedeva? e beh, loro continuamente dicevano che se il riscatto non fosse stato pagato nei termini ci avrebbero ammazzati quindi a 17 anni sapere di dover morire così insomma poi in maniera innocente perché non avevo fatto nulla a nessuno sinceramente era una cosa che mi tormentava ogni giorno quindi questo mia mamma mi ha dato molto aiuto e mamma che ti diceva? eh no stai tranquillo vedrai che si risolverà tutto ecco cercava di incoraggiarmi così insomma poi per fortuna è andato bene vedrai che non è vero tu le credevi che non era vera questa cosa? sì anche se loro sono stati fin dall'inizio molto determinati cioè purtroppo loro tutto quello che hanno detto hanno fatto loro avevano detto che avrebbero dovuto pagare il riscatto entro un certo termine altrimenti ci avrebbero tagliato l'orecchio se non avessimo poi entro i dieci giorni successivi pagato il riscatto ci avrebbero ammazzati quindi io ero sicuro che se il riscatto per qualunque motivo non fosse arrivato loro il giorno di Natale come avevano promesso ci avrebbero ammazzati e cosa ci avevi di più? la paura il terrore l'angoscia lo sgomento cioè qual era il sentimento dominante? una cosa inimmaginabile per nessuno di noi? a parte appunto il terrore di morire anche la reclusione cioè il poter non poter vedere i propri cari i propri amici la preoccupazione io l'anno dopo avrei avuto la maturità era l'ultimo anno di scuola quindi anche tutti i giorni pensavi alla maturità pensavo anche alla maturità perché a luglio dell'84 avrei avuto la maturità liceo classico facevo e quindi tutti questi giorni di scuola che saltavo erano tutti ma si riesce a dormire a avere quei giorni? di necessità virtù stavamo in una tenda sacca a pelo bendati sì sì totalmente bendati e adesso un'altra clip di Vania questa Bruno Vespa che diede l'annuncio che sconvolse noi italiani e veniamo agli orribili sviluppi del sequestro Bulgari orribili sviluppi che confermano a quale livello di degrado e di brutalità sia arrivata la fascia emergente della malavita come avete sentito nei titoli i repitori hanno tagliato un orecchio al figlio di Anna Bulgari Giorgio Calissoni sequestrato insieme con la madre quasi un mese fa e lo hanno fatto avere ai familiari insieme con due messaggi e alcune drammatiche fotografie per sollecitare il pagamento del riscatto dopo il blocco dei beni ordinato dalla magistratura ma è vero che la mamma disse prendete me prendete me cioè loro entrarono nella tenda e che vi dissero la presero innanzitutto mia mamma e la portavano nella loro tenda c'erano due tende quella dove interromiamo noi e quella dove stavano loro e mia mamma disse tagliatelo a me l'orecchio però loro dissero no dobbiamo farla al suo figlio forse perché pensavano che fatta un ragazzo giovane avrebbe avuto più effetto e quindi poi riportarono mia mamma nella mia tenda chiamarono me e lì poi mi fecero il tra virgolette l'operazione insomma con un coltello con un coltello normale tu non hai messo neanche un grido è stato un dolore molto forte per circa un minuto e ho cercato di resistere poi per fortuna diciamo è passato quasi subito forse la cartilagine o qualcosa si richiude subito così mi hanno spiegato e quindi per fortuna il dolore intensissimo ma brevissimo tanti interventi di ricostruzione mamma come ti consolò la mamma ma siamo stati insieme gli ho detto mamma stai tranquilla diciamo poi non ho sentito così tanto dolore ma ho cercato di consolare e tu consolavi lei si sentiva in colpa beh sì forse sì è un grande dolore forse l'ho capito dopo quando anche io ho avuto delle figlie che dolore sia per una mamma essere impotente di fronte al figlio a cui viene diciamo fatta un'apputazione di questo genere quindi tu soffrivi quasi più per lei che per te si può dire per tutte e due sì che cosa pazzesca Vania come è stato raccontare la loro storia beh è stato molto forte anche conoscere la madre Anna Bulgari perché è stata una donna fortissima e per iplay abbiamo realizzato questo docu crime ti ho visto negli occhi per la regia di Andrea Menghini che praticamente è costruito come fosse un dialogo l'ultimo dialogo tra appunto la madre e il figlio e si può dire che si dicono in maniera alternata cose che forse non si erano mai detti perché la madre appunto dice che deve a Giorgio un debito di riconoscenza era una donna fortissima che si vede bellissima anche in qualche modo ai rapitori perché comunque mi ha raccontato tanti episodi che poi sono raccontati all'interno del documentario cioè tipo che cosa disse ma io mi ricordo che mi disse che le strapparono di dosso il cappotto perché aveva freddo un bandito e e lei ma proprio era gente miserabile una roba terrificata e quando avvenne la mutilazione mi raccontò che a quel punto lei era diventata forte arrabbiatissima e quindi disse adesso però mi date il mio cappotto quindi diciamo e poi era si sosteneva anche così mi raccontava con la cultura con la fede e insomma è stata una donna molto forte e sono contenta di poterla ricordare che questo documentario è dedicato a lei certo Giorgio è incredibile non so io cerco sempre di trovare le spiegazioni del male no? perché poi fa parte anche della nostra cultura cattolica che si possa così cercare di dare una spiegazione a quello che non si può spiegare tu che spiegazione ti sei dato della bestialità è una parola giù sbagliata della cattiveria di queste persone ma è difficile veramente te lo sei chiesto te lo sei domandato sì ma io quello che mi sono chiesto più che altro è questo cioè loro ci avevano sequestrati eravamo una donna e un ragazzo inermi quello che infatti non riesco a perdonare loro anche dopo tanti anni o comunque o è difficile è la violenza morale che hanno per pretardo ai nostri confronti in fondo eravamo due ostaggi inermi incatenati loro erano tre uomini grandi quindi non capisco oltre oltre il fatto di averci privato della libertà che è una cosa gravissima anche aver usato violenza morale e fisica sinceramente non riesco a comprenderlo perché non veramente inimmaginabile per un essere umano come le hai raccontate alle tue figlie l'hanno sempre saputo l'hanno sempre saputo sì fin da piccoli perché poi eravamo con la nonna mia mamma quindi loro l'hanno sempre saputo ti ha reso un uomo più insicuro aver subito questo o un uomo più forte no io devo dire notaio no ma sono rimasto all'incirca quello che ero per alcuni versi più forte è stata un'esperienza che mi ha molto formato però sono rimasto sempre me stesso avrai avuto un po' di paura subito dopo cioè la paura poi l'ha vissuta questo ragazzo di 17 anni al quale viene durante il periodo sempre dopo posto no diciamo dopo l'ha superata sì sì dopo l'ho superata però se la sogna sempre beh ogni tanto sì la forza di questa donna ho visto queste immagini incredibile Simone Carolina io mi chiedevo come ci si possa riprendere da un un momento così surreale così difficile così e poi da mamma io mi immagino la sensazione anche solo lontanamente posso immaginare la sofferenza e il dolore ma infatti è stato diverso per mia mamma dunque per mia mamma in effetti la cosa è stata diversa perché non si è mai ripresa del tutto ah sì 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 per me è stato differente perché io avevo 17 anni i miei genitori furono molto bravi perché il tornado mi mandarono subito a scuola quindi fui subito impegnato con gli studi la maturità quindi poi l'università poi ho fatto l'ufficiale dei carabinieri la ripresa della normalità la mamma aveva invece 56 anni e quindi un figlio che aveva avuto appunto quel trauma e poi come diceva Vania questa cosa bella che poi ho letto che ha trovato rifugio nella lettura questa donna che si è dedicata completamente a Dante a Gozzano esatto esatto peraltro ve la facciamo vedere proprio nel documentario questo piccolo maggio che legge Gozzano mi sembra esatto l'invernale di Gozzano e ridendo prodò sfatta le chiome bella ardita palpitante come la procellaria che raccoglie il volo non curante l'affanno e le riprese dello stuolo gaietto femminile mi cercò mi raggiunse tra gli amici con il ridere cortese signor mio caro grazie e mi protese la mano breve e similando vile fantastica lei fantastica davvero è vero bellissima questa maschera questa espressione questa che non ne parlava no molto di questa storia in qualche maniera l'aveva del sequestro ma no non ne parlava non pubblicamente non pubblicamente avete fatto questo lavoro incredibile l'avete riportata al racconto avete fatto una cosa tra l'altro ci sono appunto le testimonianze anche delle figlie che raccontano come secondo loro dal loro punto di vista la nonna e il padre avevano vissuto questo rapimento o come anche la moglie cioè ci sono tutta una serie di testimonianze il riscatto fu pagato voi veniste liberati alla vigilia di Natale e sono passati tanti anni ma è giusto non dimenticare noi vi ringraziamo di avercelo ricordato in questo giorno in cui dobbiamo imparare tutti a essere più vicini più uniti perché dobbiamo sempre sapere cosa è il male per saperlo riconoscere e perché non torni mai più grazie davvero Giorgio Calissoni grazie